58-49, vinciamo, griscia positiva. Commento Michelone? Sicurezza. Sicurezza, mi ha fatto cagare. Che verso? Non ce la faccio, non ce la faccio stasera. Cosa ne pensa la Dani? Nulla di fatto. Nulla di fatto? La partita è finita, ormai... Non so io cosa sto pensando qui, vuoi che te lo dico? Sì, spara la chicco. Facciamo presto che c'è la talpa in televisione. Vai Chris, sparami sto commento. Partita non bella. Vai, la bella! Così, è un po' di giro. E' un po' di giro. E' un po' di giro. Ma tre punti da lecarsi le orecchie. E' un po' di giro. Ma le persone dicono ci sono anche i ragazzi. E' un po' di giro. Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 Grandezza Bellissima Ruggi Furioso Sino si lamenta e si nasconde E adesso venite a prenderci